Lei è residente in via Santa Barbara, tra gli sfollati della prima ora, me le racconta quelle prime ore, quando c'è stata la colata, quando c'è stata la frana, l'ha sentita? Sì, già prima sono salito sopra e ho iniziato a fare alcune telefonate, fra cui l'ex sindaco di Casa Miccele che sapeva che abitava più sopra di me, ho chiamato un po' di gente, ho chiamato il maresciallo della locale stazione di Casa Miccele a Terme, il quale mi ha dato un riferimento telefonico, nel mentre lui dice io chiamerò i miei contatti, tu con i miei cittadini chiama questo, dopodiché nel mentre stavo facendo questo, sento come se mi trovassi in una stazione e stessi passando un treno ad alta velocità vicino, questo è stato l'impressione, quello che ho avvertito. La sua casa è stata interessata dalla colata o è stata lambita magari semplicemente la strada? È stata lambita la strada, ci sono dei cumuli di fango sopra, la strada non è stata interessata da sversamento di fango all'interno, però all'esterno, il perimetro, ci sono delle dune di fango che credo stiano ancora togliendo. Apparteneva, l'abbiamo detto, agli sfollati della prima ora, c'è stata poi un'ordinanza di sgombero che ha riguardato tante strade, tante zone, anche in qualche caso con la sorpresa dei residenti che non credevano di abitare in una zona rossa, comunque si è svolta in maniera ordinata, lo possiamo dire, con qualche difficoltà. Ora la sua situazione qual è? Voglio premettere una cosa che lei ha detto che tutto si è seguito con un certo ordine da parte delle forze dell'ordine. Effettivamente è così, da quando sono venuti i carabinieri in casa a dirmi che dovevo uscire fuori e che mi avrebbero accompagnato loro per un censimento, per una nuova locazione temporanea che è stata poi l'albergo, fino a quel momento io ero a casa, guardavo la televisione ed ero molto preoccupato ancora perché c'era il sindaco, i sindaci dell'isola d'Ischia, tranne quello di Laccameno che invitavano a rimanere a casa, il sindaco di Laccameno che diceva c'è un imminente frana con un bacino d'acqua che sta per scendere e quindi eravamo molto confusi ma soprattutto dal fatto che dal comune di Cassa Miccioterme non avevamo nessuna notizia e questa è stata una cosa che mi ha colpito in negativo maggiormente. Ripeto, quando poi sono venuti i carabinieri a bussare alla porta abbiamo capito che qualcuno era arrivato e quindi la macchina era partita.